La Granarolo oggi a Campobasso per illustrare il progetto Grammanze manca poco con lo che è della regione, i lavori potranno iniziare già a fine estate 2014. Noi abbiamo avviato un ITER per avere delle autorizzazioni. Per parte nostra questo è un territorio che si presta a questo tipo di intervento. Se la comunità, a partire dalla istituzione, poi anche ovviamente il mondo agricolo, le comunità locali, che riterranno di gradire questo tipo di investimento, che crea occupazione, crea un indotto secondo noi interessante per questo territorio, noi potremmo partire anche in un lasso di tempo ragionevolmente breve, anche perché l'intervento non è un intervento invasivo dal punto di vista dell'infrastruttura o delle strutture, è un intervento molto leggero. Immaginiamo di utilizzare queste prossime settimane per completare questo ciclo di consultazioni con il territorio. Noi ci siamo prima rivolti come è normale che sia all'iter formale e burocratico, abbiamo partecipato a un bando, abbiamo chiesto un'autorizzazione. Oggi noi iniziamo a parlare direttamente col territorio del Molise. La Granarolo garantisce un impatto ambientale pressoché nullo? L'impatto ambientale pressoché nullo è un termine difficile. Noi garantiamo di rispettare tutte le procedure, le norme come è nostro costume e credo che alla fine il saldo ambientale sarà un saldo positivo perché restituiamo con questo intervento una vocazione agricola a un territorio che in questi anni, probabilmente come tutti i territori italiani più marginali, ha visto calare la presenza del mondo agricolo. Grazie. Grazie. Grazie.